Lui è Raffaele Scalpone, medico diabetologo, presidente dell'AID, Associazione Italiana per la Tutela degli Interessi dei Diabetici e la Ricerca, ma è anche una persona con il diabete. Una malattia che conosce quindi molto bene, che è diventata anche argomento di un libro. Una vita in 3D, scritto insieme al giornalista Mario Papagallo, nel suo volume, presentato all'Università della Calabria, tanti aspetti preziosi, soprattutto per le persone affette da questa malattia. Il messaggio è quello di far capire a chi effetto dà la patologia come il diabete, che è una patologia cronica, che una volta contratta non permette la guarigione, ma solo la possibilità di convivere con questa patologia tutti i giorni, quotidianamente. Il messaggio del libro è quello di cercare di accettare la patologia, perché solo accettando la patologia si riesce a conviverci serenamente e si evitano soprattutto le complicanze che il diabete mal curato, perché non accettato, comporta. E qui in Calabria sappiamo che l'incidenza è la più alta d'Italia, perché mentre in Italia c'è un 6% di incidenza del diabete, in Calabria sfioriamo addirittura il 7% di presenza di pazienti affetti da diabete. Dal diabete, si sa, non si guarisce in maniera definitiva, ma è una malattia con la quale è possibile convivere. Un libro quindi, che dietro ad una storia, vuole lanciare un messaggio di speranza. Sicuramente è un libro che, soprattutto rivolto a chi è affetto da diabete come me, nel narrare quello che mi è successo, quello che ho fatto, può essere da stimolo e da speranza per chi leggendolo capirà e dirà ce l'ha fatta il nostro diabetologo, il nostro scalpone, il nostro presidente, ce la possiamo fare anche noi.